Anna, stiamo esplorando da mezz'ora, ma io inizio ad avere una certa appetita, ho fame, hai portato qualcosa da mangiare No, io non... Come no? Lì c'è Ermano, mangia Ermano No, sei matta, è un pollo così simpato Ma, quindi non abbiamo niente da mangiare, siamo fuori da una vita, non abbiamo niente No, non c'è niente, non ci sono manco animali, aia Che? Che è successo? Aia Anna! Aia Ermano! Aia Che roba è? Eeeh, niente, erano tartine, tartine alla mermellata Che roba era? Dove l'hai presa? Era un pezzetto di te Che? Ho installato la mod del cannibalismo, quello era un pezzetto delle tue, del tuo braccio Hai cercato di mangiarmi? Non è che ho cercato, ti ho mangiato Ermano! Oh, un altro pezzetto, guardala buono Eeeh, è un pezzetto di te, no? Ci siamo giurati amore e quindi quello era un pezzetto del tuo cuore Era tra l'altro molto buono, Anna Che schifo E' abbastanza, in effetti Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati nel laboratorio delle mod di Lion Quest'oggi doppia mod da recensire per noi Una l'avete già intravista, ciao Anna intanto Ciao E l'altra ve la faremo vedere tra un istante Però ragazzi, prima di ogni altra cosa, lasciatemi chiedere come al solito il vostro sostegno Mi raccomando, cliccate pollice in su per questo video In modo che la serie delle migliori mod vada avanti E non dimenticate di suggerirmi nei commenti Se conoscete qualche mod molto figa da poter vedere insieme ragazzi Mi raccomando, scrivetemelo Quindi, per ora, iniziamo pollice in su per il video Eeeh, avete già visto la mod del cannibalismo Che praticamente consiste nel poter mangiare, diciamo, pezzetti Dagli altri player in un server multiplayer Vedete io, Anna, l'hai preso tu il pezzetto che t'ho tagliato Eeeh Eeeh Chissà che parte era questa volta Secondo me era un dito Un dito da qualche mano Controlla conta se ce li hai ancora tutte Non mi temere, non prenderò più pezzi da te Ok, no Tranne quest'ultimo Mettila Ma io mi domando se sei una fonte di cibo infinita O prima o poi rimani senza un braccio, senza una gamba Perché in teoria, da quanto ne so, il cannibalismo è una brutta cosa, ragazzi Comunque Eeeh So che si possono prendere pezzi anche dai villager Quindi, Anna, fammene spawnare uno Salute, zio, Gianni Eeeh, aspetta però Oppala Ermano Ermano Madonna, Ermano È il polo più agguerrito del West Una cosa incredibile Qualcosa di impensabile Bravo, Ermano E vedete Ci viene dato una carne di villager Mentre quella che ho preso da Anna È carne di giocatore Ora, ditemi voi, ragazzi, se non è figa sta cosa Voi immaginatevi di essere in un server multiplayer Un tizio vi fa incazzare E te gli puoi prendere la carne e dirgli Oh, senti Guarda, dentro questo forno ci sei tu Io ti sto cucinando E poi, guarda un po' qua Metti magno Eeeh E' una cosa, secondo me, quello ci rosica come non mai, no, Anna? Oh, santo Dio, che schifo Eeeh, vabbè, che schifo però è cazzuta come questione È uno smacco, no, per quella persona E comunque le carni si possono anche cucinare E in quel caso sono migliori da consumare poi Eeeh, si possono fare anche diversi tipi di coltelli Tipo quello di ferro, quello di diamante E ognuno di essi farà più male Eeeh, in teoria anche sui polli Prova a farmi spawnare Anzi, faccio io Spawn mob pig 1 In teoria anche sugli altri animali dovrebbe funzionare Infatti, esattamente Funziona su tutti gli animali Eeeh, dandoci carne praticamente Senza ucciderli Purtroppo qua interviene Ermano Che li uccide Però altrimenti Eeeh, quel maiale ci avrebbe dato delle bistecche Eeeh, più bistecche prima di morire Rispetto a quante ce ne avrebbe dato normalmente Vedete ragazzi Me ne ha date 4 Eeeh, e si può fare anche con altri Con tanti altri animali Tipo Proviamo la pecora Vediamo se Fa qualcosa No La pecora si limita a Evocare roba rossa da sotto Ma, senti una cosa Invece di ammazzare la gente E mangiartele Non potresti mangiare qualcosa di un po' più salutare Tipo, toh, guarda Un uovo fatto da Ermano Ma Ermano è maschio Come fa a fare le uova? Me lo so Questa modo contiene Tutta una serie di uove Sono diverse uove Ce le ho tutte nell'inventario Ognuna delle quali Avrà una funzione particolare Che in un modo o nell'altro Ci aiuterà Nelle nostre avventure su Minecraft Vero Ermano? Giusto Ora Ve le farò vedere nell'ordine Questa prima qua Dovrebbe servire a far spawnare Una abitazione Quindi proviamo Che? Oh, guarda come parte lontano Eeeh Niente di meno Una casa pronto uso Ci posso vedere Una certa utilità In effetti Immagina di essere In trapo Che c'è già gente Alla Ma Cioè, guarda In questo mondo viviamo Non ci si può piazzare La porta di casa Che arrivano testimoni di Geova Polli di Geova Anna di Geova Ma va via Non sono interessato Ora Un venditore di aspirapolveri No, no, non serve niente Allora Stavo dicendo Eeeh Mettete caso Voi ragazzi Siete nel mezzo delle bambage No? In giro a esplorare Durante la notte Avete appresso Una delle uove casa Eeeh In un attimo Potete piazzare Una casa pronto uso Per la notte Mi sembra un'ottima cosa Parecchio utile del resto Poi però abbiamo anche Le uove Dannose Per esempio Uovo esplosivo Di portata 1 Questo è nel caso In cui voi Non siete quello Che ha piazzato la casa Ma siete magari Un suo amico Un po' stronzo In quel caso Anna Facciamo finta Che la casa sia la tua Va? Ma non possiamo fare il controllo No, 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 no Entra in casa Eeeh Eeeh Anna Si Ho portato un regalo Uovo di Pasqua Ma non ha fatto niente Oh 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 Che merda Perché la tua cattiveria È profonda Proviamo con Il Mi è uscito un messaggio Che hermano ha fame Ma va a cagare hermano Ah Oh mio dio Hermano Hermano No Perché ti ha ammazzato Perché tu mi hai fatti donno Ma tu ti rendi conto Dell'aggressività Di sto pollo Va nelle fiamme Più pur di ammazzarti Va nelle fiamme Comunque abbiamo visto Spazzo di ormoni Eeeh Abbiamo visto che l'uovo esplosivo Di portata 10 Ha un effetto decisamente considerevole Ora io proverei anche quello Di portata 50 Sempre su Anna No Oh madonna mia Che boato Aia Sto andando a fiamme Sto andando in fiamme Hermano Acqua Aia Help Help pure a me Aia Sospento Ma che roba era Guarda qua Che cratere Apocalittico Per un uovo Cioè in un uovo C'era tutto sto casino C'era Racchiuso in un uovo Il potere della creazione Una cosa incredibile è stata Il forno è arrivato fino a qua giù Eeeh Ha sfasciato anche il laboratorio Parzialmente Madonna mia Oh santo dio Ma qual è la gallina Che fa sto uovo Non lo so Una gallina Hermano probabilmente Visto che è così incazzoso Sei tu che produci queste uove Eh Dopate Non ti vergogni Dai le armi ai terroristi Pollo Isis Vabbè Andiamo avanti Abbiamo altre tre uova da vedere L'ultima me la tengo per Cioè la più bella Me la tengo per ultima Ora Abbiamo questa qua Che dovrebbe servire a minare Quindi metti tu sei In giro in miniera Lanci questo E ti scava Vedi Un buco In realtà qua Non è che sia proprio grande Però Se io ne avessi delle altre Fammi vedere Dovrei Eccole qua In teoria potrei magari Spammarle No Tutte queste uova Tra l'altro Tornando seri Si possono craftare E non sono tanto difficili Da craftare Quindi Cioè volendo Si potrebbero usare Effettivamente Per scavare Per fare le cose E ci danno Tutti i blocchi Che effettivamente scavano Quindi non perdiamo niente Immaginiamo di essere in miniera Noi possiamo andare in giro Raccogliere tutti i minerali Invece che Nel modo classico Con le uova Del pollo hermano Ora Andiamo avanti Con L'uovo di Trasperta Teletrasporto Che ci servirà Tipo enderpearl Vedi Oh mio dio Bellissimo Ma funziona Funziona pure Bellissimo Oppure questo Bravo pollo hermano Questo serve per fare Le missioni segrete Che te dice Eh Non usare le enderpearl Però È ok Però c'hai queste qua Le tiri E sono molto fighe Non che hanno lo stesso uso L'ultimo uovo ragazzi Che è quello che mi sono poi entrato Per ultimo Tenuto per ultimo È quello Della Dello sciame di mostri Che non ho idea Che cosa possa fare Effettivamente Cioè un'idea ce l'ho Però non ho ben capito Anna sta scappando Quindi probabilmente Ha pure lei un'idea Eh Di che cosa possa essere capace Quest'uovo Vediamo un po' Oh mio dio Ma hai visto Quanta gente È uscita da un uovo Cioè io Io posso capire Un parto Ti sei fatta Un pilastro Della salvezza Aspetta Ora ti ti No 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 Ok Te lo mino Ho un'idea Te lo mino Con le uova minanti Aspetta Ecco No 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 Anna Scappa Scappa Aiuto Oh mio dio Comunque Cioè io stavo dicendo Capisco un parto gemellare No Due Ma da queste uova Ne escono 54 Guarda che roba Queste potrebbero essere Fighissime Per i troll Che te gli dai un uovo Gli dici Oh da qua dentro Ti escono due diamanti Quello lo va a tirare Gli BAM Una marea di mostri In casa Bellissima sta mod Mi è piaciuta Mi è piaciuta Anche quella del cannibalismo Eh devo dire Però quest'altra Ancora meglio Devo dire Ma voglio provare una cosa Posso prendere No Da un creeper No Oh Ma che ca... Anna Cosa? Ho preso carne Da me stesso Che schifo Eh Tra l'altro Mi inquieta il fatto Che l'ho presa Mentre guardavo in basso Oh Quindi probabilmente L'ho presa da lì Proprio da lì Mi sono tagliato Oh Dio Ah ragazzi Mi sono amputato No forse no Forse ricresce Pollo ermano Hai un uovo apposta? No Vabbè Le uova normali forse Faranno beh Proteine Proteine Vabbè Quindi la mod del cannibalismo Un po' orrenda ma bella Mentre quell'altra è decisamente carina E molto divertente Per questa volta ragazzi Direi che possiamo chiudere qui il video Mi raccomando Lasciate un bel pollice in su Arriviamo a 5000 Per la prossima mod Lion ed Anna Vi auguro una buona giornata Out